Don Serafino Parisi di Crotone è il nuovo vescovo della diocesi di Lamezia Terme. L'annuncio è stato dato sabato scorso in contemporanea nelle cattedrale di Crotone e di Lamezia Terme. Don Serafino, nato a Santa Saverina 60 anni fa e rettore della cattedrale in Crotone, ha un curriculum di altissimo spessore, vanta un baccalaureato in teologia e una licenza in scienze bibliche ed è docente di greco del Nuovo Testamento ebraico ed esercesi biblica all'Istituto Calabrese della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in Napoli. Ascoltiamo un suo commento a caldo. Quando ho saputo la notizia ero talmente confuso che davvero non ho pensato a nulla. Ho pensato semplicemente al fatto di come possano capitare queste cose davvero che guardano, che vengono guardate meglio con gli occhi di Dio. Gli occhi del Signore sono quelli della grazia, come dicevo in riferimento a Pietro e a Paolo, e sono quelli della misericordia. Danno sempre una possibilità in più. Abbiamo questa certezza che poi viviamo come speranza di poter recuperare sempre e di poter essere davvero segno di rinascita, intanto per la nostra vita personale, perché soltanto chi comprende la quantità di grazia e di misericordia che ci vuole per sé può essere più disponibile a comprendere la grazia e la misericordia che deve amministrare a nome del Signore nei confronti degli altri. Questa è speranza, questa è possibilità davvero di vita bella, di vita nuova per tutti.